La liberazione di Denis Cavatassi è stato in assoluto il regalo di Natale più bello e desiderato sia per la famiglia che per l'intera comunità tortoretiana, che è sempre rimasta vicina perché convinta della sua innocenza. Quando le è arrivata la notizia che Denis era stato liberato? Per lì neanche ci credevo, poi abbiamo realizzato che era tutto vero e un piatto liberatorio. Adesso ce lo godiamo in famiglia un po'. Meglio di così non si poteva sperare. Per noi è stata la fine di un incubo e vogliamo riprenderci la vita normale come tutti hanno diritto di una vita normale. Avere un figlio con una condanna così pesante, sapendolo innocente, perché noi eravamo certi della sua innocenza, infatti poi la sentenza definitiva l'ha dimostrato, è stato pesantissimo e umiliante pure. A me mi aveva tolto il desiderio di stare in mezzo alla gente, non lo so, non vivevo più una vita normale. La prima cosa che ha detto a Denis non appena lo ha visto? Beh, ci è voluto un po' di tempo per dire qualcosa perché non riuscivo a parlare per la commozione. E poi abbracci, saluti, come stai, queste cose qua. Sindaco Piccioni, questo è il regalo di Natale più bello che l'intera comunità di Tortoletto poteva ricevere? Sì, siamo veramente felici tutti, 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 tutti i nostri concittadini hanno appreso con molta gioia la liberazione di Denis Cavatassi a seguito della sentenza di assoluzione. I cittadini di Tortoletto non hanno mai perso le speranze, soprattutto hanno sempre creduto nell'innocenza di Denis. Sì, e si è vista in quella manifestazione dove l'intera comunità di Tortoletto, che è una comunità sana, conoscendo la famiglia, si è stretta intorno alla famiglia e penso che sia stato anche un momento veramente di commozione per la famiglia.